Salve amici appassionati di Football Manager, qui con me come sempre c'è Mike94, ovviamente Football Manager Italia Siamo qui nel nostro Football Manager 2019 con il nostro mitico Milan e oggi andremo a vedere la finale di Coppa Italia contro la Roma Vi ho saltato la partita col Torino che abbiamo vinto 1-0, sinceramente non mi aspettavo di vincere qui Perché giocavamo in casa loro, perché il Torino è terzo in classifica e non mi aspettavo una vittoria Invece per fortuna abbiamo giocato veramente tanto tanto bene In classifica siamo primi a 81 punti, a più 3 dalla Juve, sempre con due partite in meno Siamo già qualificati in Champions League, quindi il nostro obiettivo è stato raggiunto Però a questo punto cercheremo di fare il possibile per rimanere primi dopo questa stagione veramente fantastica Sarebbe un peccato buttare tutto alle ortiche Per quanto riguarda invece la semifinale di Europa League abbiamo beccato il Francoforte Che devo dire ha una bella squadretta, sono andato a vederla L'altra semifinale invece è Chelsea-Lazio Quindi nel caso in cui dovessimo arrivare in finale sarebbe sempre una bella partita Perché o sarà un derby italiano, diciamo comunque una partita fra due squadre italiane Oppure sarà contro una squadra veramente veramente forte, allenata da Sarri E con giocatori veramente molto molto validi Sono curioso di vedere in che posizione sono Sono quinti, però ovviamente dobbiamo sempre superare il turno e vincere appunto le semifinali Detto ciò direi di andare subito a bomba a vedere la finale Che giochiamo con quasi tutti i titolari Gioca Donnarumma, Rodriguez, Romagnoli L'Engle perché Cardale è squalificato Calabria, Bakayoko a posto di Chessy perché Chessy è squalificato Emrechan, Chiesa, Paqueta, Suso e Aubameyang La Roma gioca sempre col 4-2-3-1 Con Olsen, Kolarov, Fazio, Manolas, Florenzi, Cristante, Nzonzi E Sharawi, Pastore, Under e Origi Origi perché Zeko è squalificato Buon per noi Origi è un ottimo giocatore Infatti pure io lo volevo in squadra E quindi spero che non ci purghi proprio adesso Speriamo di no Non è una partita semplice ma questo è abbastanza scontato È una finale La Roma non ha fatto una grande stagione Questo credo sia il suo più grande risultato Cioè essere arrivato in finale di Coppa Italia Proprio per questo mi sa che giocherà a mille Per portare a casa questo trofeo Ma ovviamente anche noi potremmo provarci Insomma giocheremo al massimo delle nostre possibilità Perché potremmo Siamo in ballo ancora in tutte le competizioni Potremmo portare a casa un mini triplete Se riuscissimo a vincere l'Europa League La Coppa Italia e anche lo Scudetto Sarebbe una gran figata Speriamo bene Subito attacchiamo E questo è un bene Questo è poco ma sicuro Ma dobbiamo trovare il goal Che ancora non è arrivato Attacca adesso la Roma con un contropiede E per fortuna l'azione sfuma Mi spiace perché si è Caldara Ma abbiamo un sacco di giocatori diffidati Che appunto potrebbero non giocare la prossima Ovviamente le ho messo tutti i titolarissimi È una finale È una partita fin troppo importante Quindi non potevo fare questi ragionamenti Ragionamenti che non ho fatto nemmeno col Torino Perché anche quella è una partita fondamentale Il Torino sta facendo una stagione incredibile Appunto sono terzi in classifica E non potevo assolutamente Prendere il lusso di giocare con le riserve Intanto c'è Suso che si accentra Tenta il suo solito tiro a giro Ma non stupisce Olsen Anche perché il pallone era parecchio parecchio centrale Stiamo attaccando parecchio Come nostro solito Ma come nostro solito Non riusciamo a trovare subito la via della rete Che sarebbe fin troppo importante C'è Emre Can C'è Romagnoli La Roma ci aspetta parecchio Come potrebbe vedere Noi siamo molto molto alti La Roma invece è quasi tutta dietro alla metà campo Si difendono Sanno bene o male come giochiamo E però nonostante questo Arriva il gol di Federico Chiesa Grandissimo Non mi posso permettere di urlare Perché ho un mal di gola incredibile Però sono contentissimo Ragazzi questa squadra fa quel che vuole C'è poco da fare Veramente fa quel che vuole È una forza incredibile Abbiamo un sacco di giocatori Fortissimi Poi vabbè L'ha provato anche di Chiesa Ha migliorato Tantissimo questa squadra Anche se già il buon Jack Faceva tanto Tanto Veramente faceva tanto Però Chiesa Dà quel qualcosina in più Che rende la squadra ancora più forte Così come Aubameyang Che è veramente un attaccante incredibile Intanto c'è Suso Che si accentra Viene fermato Però c'è ancora Aubameyang C'è Suso sulla destra La passa a Calabria Oggi preferito a Conti C'è ancora Suso Colarob In scivolata Prende il pallone Quindi non è neanche calcio di rigore C'è però Origi 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 E qui ragazzi Intervento incredibile Non so se di Romagnoli Non so se di Romagnoli O di Lengle Ma veramente Un intervento Che vale quanto un gol Perché Donnarumma Era proprio al di fuori Della porta Non so che cosa stava facendo È stato un intervento Incredibile Non ho capito se era Lengle o Romagnoli Ma sono entrambi difensori Molto molto validi E sono ovviamente contentissimo Di averli in squadra Proprio per questo Lengle l'ho messo Senza troppe Troppe preoccupazioni Per Caldara Mi dispiace Ma abbiamo Quattro difensori Uno meglio dell'altro Anche Mustafi È veramente ottimo Staranno entrambi con noi Per questo Anno e mezzo Oramai Poco 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 meno Di un anno e mezzo C'è ancora Esharawi C'è Under Sulla sinistra La cross al centro C'è Chiesa Calcio di rigore Chiesa forse la presto Con la mano Sì rigore Chiesa dà E Chiesa toglie Purtroppo Calcio di rigore Di Pastore Donnarumma Mamma mia Però pure Pastore In una finale La vai a tirare centrale Grandissima parata Per Donnarumma A noi ci va di lusso Ma non mi piace Come sta giocando la squadra Dalla seconda metà Del primo tempo Abbiamo un po' Messo il freno a mano E questo non va bene Praticamente dopo il goal Ci siamo un po' Ritirati Stiamo facendo veramente poco E ciò non va bene Suso da calcio di punizione La passa indietro L'Emre Chan Emre Chan Non sbagliare C'è Rodriguez Che la passa L'Engle L'Engle sulla fascia sinistra La passa a Pagetà C'è Bakayoko Che prende l'incrocio Dai pali Ragazzi Potevamo chiuderla Quasi Con questo gol Di Bakayoko Anche lui Ottimo Centrocampista Ma purtroppo Non riesce a trovare Lo specchio della porta Ancora Suso da calcio di punizione Finalmente 2-0 2-0 Che ci rende leggermente Più tranquilli Bella Bel calcio di punizione Tirato sul Praticamente sul palo Del portiere Che era spostato Verso destra Quasi Dietro la barriera Diciamo Parecchio colpevole Qui Olsen Ma anche bellissimo Il tiro di Suso Che Sta segnando Ragazzi La prima parte di stagione Praticamente ha segnato Il contagoccio In questa parte Invece Sta segnando Molto molto di più E sono ovviamente Contentissimo Di quello che fa Però adesso Lo devo per forza Levare Perché è parecchio stanco Ci metto Il buon Giacomino Buonaventura E aspettiamo Un altro po' Per fare gli altri Anche se Praticamente Mancano 10 minuti E Sharawi E Sharawi Lex La passa a Klaivert Klaivert Un po' pasticcio Poi per fortuna Riusciamo a tenere il pallone C'è Aubameyang Contro Kolarov Vince Aubameyang Lo scontro La passa dall'altra parte A Giacomino Buonaventura Che aveva tutto il tempo Per chiudere La partita Ma non ce la fa Non ci riesce Io adesso sto già pensando A chi Cambiare Se levare Anche Chiesa Che è stanco Oppure chi Ci sono parecchi Giocatori stanchi Io metterei Fournauts Perché comunque Può dare una mano Lì in difesa E direi anche Conti Giusto perché Appunto Sempre per Dare un po' più di Energia Lì dietro Visto che in attacco Già stiamo messi bene Avendo vinto 2-0 Avendo già comunque Messo Buonaventura E Quindi Direi che Possiamo dare Manforte Alla difesa Attacchiamo ancora noi Buon per noi Ovviamente Sono contento Anche se La partita È quasi finita Mancano 10 secondi Bene così Attacchiamo Addirittura Grandissima partita Ragazzi Abbiamo rischiato Dobbiamo anche ringraziare Pastore Che ha sbagliato il rigore Però Grandissima partita Del Milan Che vince Anche la Coppa Italia Meritatissima Direi Abbiamo rischiato Contro la Juve Di uscire Ci poteva anche stare Una semifinale Contro la Juve Che È la seconda squadra Più forte Comunque La prima insieme a noi E quindi Tanta tanta roba Sono contentissimo Di questa partita Anche se La mia voce Non me lo permette Di dimostrare Però Sono felicissimo Tanta tanta roba Ovviamente ragazzi Non ve l'ho detto A inizio video Perché volevo Farvi un regalo Soprattutto in caso Di vittoria E quindi Adesso ve lo posso Già spoilerare Stiamo prendendo Un grandissimo Giocatore a parametro zero Forse è il migliore Fra quelli che Quest'anno possiamo prendere Proprio per questo Ho voluto fare Fin da subito Un'offerta Giusto per Non farmelo scappare Lui è accettato Non è ancora ufficiale Perché lo Diciamo Gli ho offerto il contratto Proprio oggi Prima della partita Però dovrebbe Accettare Anche perché Per il momento Non ci sono altre Pretendenti Perché comunque Lui è felice Dell'offerta E sto parlando Di Ramsey Giocatore che Nella realtà È andato Alla Juve Andrà alla Juve A luglio Se non sbaglio L'offerta è stata accettata Ed è anche ufficiale Lo stiamo prendendo noi Diciamo che Gli volevo far firmare Un contratto Non da giocatore fondamentale Ma da turnovero Prima squadra Lui però Ha rifiutato Voleva solamente Un contratto Da fondamentale E ragazzi Io sinceramente Gli ho voluto dare Anche se non credo Che sarà proprio Il nostro titolarissimo Però Un giocatore come Ramsey Ci potrà dare Sicuramente Una grandissima mano Gli abbiamo offerto Un contratto Da 4 milioni e mezzo Più bonus Comunque importanti Bonus alla firma Di 8 milioni Bonus alla gente Di 4 Ovviamente È un parametro Zero importantissimo Quindi un esborso economico Ci deve stare per forza Però ragazzi Prendere a zero Un giocatore come Ramsey Per me è veramente Tanta tanta roba Può Darci una mano Soprattutto ragazzi L'ho preso Nel caso in cui Fornals Se ne voglia andare via Decidesse di ritornare A Villareal Ramsey sarebbe Il sostituto Perfetto Di Fornals Direi che Come regista arretrato Lui o Emre Can Stiamo veramente A posto Un giocatore Veramente importante Fisicamente È messo comunque Molto bene Mentalmente È un ottimo giocatore Tecnicamente È ottimo Tecnica 17 Passaggi Dribbling Controllo palla C'è anche un buon contrasto Per questo comunque L'ho voluto fortemente Cross Insomma È un giocatore Veramente fondamentale Che nella realtà Appunto è stato preso Dalla Juventus Per il nostro staff Non è poi un centromampista Così valido Gli dà solamente Tre stelle Ma sinceramente Non ho voluto dare Molta importanza È effettivamente Il giocatore svincolato Più forte Che potevamo prendere E sinceramente Non voglio Farmelo scappare Ecco Non voglio che poi Arrivati A verso luglio Ci siano molti Più pretendenti Sicuramente Aspettando Avrebbe potuto Accettare Un contratto Ancora di più Inferiore Soprattutto Un ruolo Non così Da protagonista Però ho preferito Lanciarmi subito Sia per farvi Un regalo Post Coppa Italia Vabbè Alla fine Se vincevamo meno Comunque era Un regalo Premio Un regalo Di consolazione Ma poi Appunto Non volevo rischiare Che grandi squadre Se lo fregassero Ripeto Per me è un grande acquisto Ci darà una grande mano Non sarà titolarissimo Però Ripeto Per me È un ottimo colpo A zero E andrà a rafforzare Ancora di più La squadra Che è già Molto Molto forte E per la seconda squadra Per squadra riserve Lui è un lusso Incredibile Lo so che prendere Una quasi riserva 4 milioni È una follia Ma ragazzi Abbiamo un sacco Un sacco Di soldi Ancora di più Con la qualificazione In Champions League Adesso La società Ci ha dato 100 milioni Di budget Trasferimenti E 60 milioni Budget Budget Da spendere Da spendere E altre che ci sono Non tantissimo Spendiamo 60 milioni Di ingaggio Quindi Direi che per me È un ottimo colpo Detto ciò Io spero che questo video Vi sia piaciuto Ovviamente vi salto La partita con il Frasinone Direi che invece Ci andiamo a vedere Se è l'andata Che il ritorno Della semifinale Di Europa League Visto che sono Partite importantissime E poi Del campionato Mi sa che Dovremmo fare Tutta la staffetta Napoli Fiorentina Roma E Lazio Per capire Se riusciremo O meno A vincere il campionato Ovviamente Frasinone Bologna Udinese Me le esalterò Però a parte Queste tre partite Mi sa che Ci vedremo Un bel po' di match O almeno Li vedremo Finché la matematica Non ci dirà Se riusciamo A vincere il campionato Oppure se saremo Solamente Secondi Che è già Un grandissimo Traguardo Detto ciò Ragazzi Come sempre Lasciate like Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Anche la pagina facebook Trovate il link In descrizione Grazie per tutto Quello che fate E come sempre Un saluto da Mike94 Ovviamente anche da Football Manager Italia Ciao ragazzi